Due aziende su 100 hanno visto dimezzare il loro fatturato, altre 30 accusano una diminuzione compresa fra il 31 e il 50% e altre 50 denunciano cali variabili. Solo 14 imprese su 100 prevedono un fatturato in crescita quest'anno. In più si contraggono fortemente la domanda e i servizi. Il dato emerge dall'analisi effettuata su 120 aziende da Confapi Piacenza, rappresentano 1 miliardo e 300 milioni di euro di fatturato e 7500 dipendenti. Preoccupazione a tal proposito è stata espressa dal presidente di Confapi Piacenza, Cristian Camisa, in particolare per la mancanza di politica industriale che a suo avviso non è mai stata incentrata sugli investimenti. C'era bisogno di politica effetto leva, invece si è puntato su sussidi che finiscono a breve e non hanno effetti nel lungo termine, ha dichiarato Camisa, che auspica più interventi verso un'industria 4.0, certezze sul medio-lungo termine e semplificazione. Voglio essere però fiducioso sulla capacità di tenuta, aggiunge, sull'adattamento e reinventarsi delle nostre aziende. Imprenditori e lavoratori hanno fatto grandissimi sacrifici e è nata una sinergia nuova, un'unità di intenti dentro le aziende. Bisogna remare insieme nella stessa direzione. Il 24 settembre Confapi rinnoverà i vertici e dopo 8 anni Cristian Camisa ha deciso di non ricandidarsi a Piacenza. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, ha dichiarato. Camisa resta vicepresidente nazionale di Confapi Industria. Grazie a tutti.